Conoscete la leggenda dell'albero di Halloween? È nella foresta oscura! C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. Quattro bambini andavano a cercare i loro amici e trovarono l'albero di Halloween. C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. C'è una strega che sta volando, una mummia che salta lì, poi c'è un mostro e uno scheletro intorno all'albero di Halloween. L'albero di Halloween esaudisce anche i più strani desideri. Attenti a cosa chiedete!